Nel giorno del trentesimo anniversario della prima connessione dell'Italia alla rete, avvenuta il 30 aprile 1986, la Camera di Commercio di Teramo, con il supporto di Union Camere e Info Camere, ha organizzato l'evento titolato Happy Birthday Internet in Italia. Tutti quanti gli strumenti che loro utilizzano nella loro vita quotidiana e che oramai danno per scontato in realtà provengono da una serie di studi e ricerche che sono durate decenni e che oggi ci permettono di condividere le informazioni in maniera estremamente veloce. Un'occasione per far capire ai nativi digitali quale ruolo svolge oggi Internet nella vita quotidiana e quali straordinarie opportunità possano aprirsi con l'ulteriore diffusione di servizi basati sulle nuove tecnologie, partendo proprio da quelli erogati dall'intero sistema camerale e dalla Camera di Commercio di Teramo. Vorremmo veramente far comprendere loro come la costruzione di una professionalità e delle loro competenze, non più come si diceva prima dei saperi, costituisce un cammino utile ad inserirsi nel mondo del lavoro. Noi da un po' di tempo, da parecchi anni, facciamo alternanza scuola-lavoro all'Ipsia e la collaborazione con la Camera di Commercio per noi riveste un aspetto molto importante. Oggi questa è una giornata dove sicuramente potrebbero nascere altre cose in futuro, ce lo auguriamo, nell'interesse nostro e nell'interesse della Camera di Commercio.